Tre modi per sconfiggere la timidezza e conoscere gli uomini che ti piacciono. In questo video voglio spiegarti quali sono tre modi per sconfiggere la timidezza e conoscere gli uomini che ti piacciono. Prima però iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai le notifiche ai nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrei scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni e seminari del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema. Tre modi per sconfiggere la timidezza e conoscere gli uomini che ti piacciono. Allora, per conoscere gli uomini che ti piacciono l'unica cosa che devi fare è mandare a quel paese, tra virgolette, mandare via, eliminare la timidezza. Per passare, diciamo, da preda, tra virgolette, a cacciatrice. Cacciatrice, seppur in diretta, comunque diventare una cacciatrice. E questo è il primo, questa è la prima cosa che si può fare. La timidezza ti blocca e magari non sai come approcciare, non sai conoscere gli uomini che ti piacciono. Anche se sei una preda, diciamo, le donne devono essere preda, devono imparare a, come dire, a diventare, diciamo, cacciatrice. Talvolta cacciatrice è passiva, ma vincere la timidezza e avere la capacità di adattarsi alla situazione. Perché soltanto in questo modo saprai essere una vera seduttrice, in grado di conquistare, in grado di conoscere soprattutto le persone che ti piacciono. Perché tu dici se, perché non può essere, deve essere lui per forza che fa il primo passo. Qua non si tratta di fare o non fare il primo passo. Si tratta di imparare, si tratta di giocare, si tratta di mettere in atto tutta una serie di comportamenti che possono essere molto utili nella conquista, che possono essere molto utili nella seduzione. Quindi imparare, diciamo, a riconoscere i maschi che ti piacciono e a diventare cacciatrici è molto utile. Poi ci sono alcuni uomini, ad esempio, che hanno un po' bisogno, non devono un po' giocare, sono i seduttori passivi. Ovviamente i seduttori passivi potrebbero essere timidi, però potrebbero essere anche dei narcisisti, per cui bisogna un po' prestare attenzione. Ci sono quelli che davanti a una donna magari si intimoriscono e quelli che invece lo fanno perché si ritengono superiori. Insomma, quindi teoricamente non andrebbero bene l'un nell'altro. Però c'è anche il maschio alfa che magari per situazioni diverse non si manifesta nel modo corretto. Per cui è importante imparare a diventare, diciamo, delle seduttrici. Diventare delle seduttrici, da questo punto di vista, è davvero utile perché ti permette di essere una donna, diciamo, che coinvolge, una donna che sa conquistare. Ti permette di diventare una donna in grado di sviluppare tutta la sua femminilità, di sviluppare tutta la sua sensualità. Allora, quello che devi fare, intanto, è molto importante sapere gestire il gioco di sguardi. Gli sguardi, da questo punto di vista, sono delle... è un modo per dare dei forti segnali. Teniamo presente che lo sguardo dopo il contatto è il senso che è più invasivo, tra virgolette, perché guardare una persona comunque ti fa entrare fortemente in contatto con questa persona. È qualcosa che ti darà sicuramente, diciamo, un approccio molto sicuro, molto importante, molto deciso. Questo è qualcosa da tenere in considerazione. Per cui è molto interessante, diciamo, imparare a gestire tutte queste situazioni. È molto importante imparare a gestire delle situazioni di questo genere. Quindi, prima di tutto, la cosa fondamentale è superare l'ansia d'approccio. Abituarti a essere estroversa e soscevole con tutti. Questo è fondamentale. Il secondo passo è quello di metterti in testa che il rifiuto non è una tragedia. imparare ad approcciare gli uomini è, diciamo, è importante perché se tu sei una cacciatrice, devi non avere, non devi temere il rifiuto. La partita di caccia può andare male, ma questo non deve assolutamente impensirirti. Per cui non devi neanche avere paura di metterti a nudo, no? Vivilo come una modalità per darti delle emozioni. Se le cose vanno, vanno. Se le cose non vanno con questa persona, andranno con un'altra. Detto questo, diciamo, partendo da questo presupposto e mantenendo il giusto distacco del risultato, perché è importante mantenere il giusto distacco del risultato, avvicina, sorridi, avvicina e magari inizi anche a parlare con questa persona, facendo qualche domanda, vedendo un attimino come, diciamo, si comporta, come risponde. La cosa importante è che fare un po' di tira e mola, cioè non devi dare l'idea che tu sei, diciamo, non devi dare l'idea che tu sei, come possiamo dire, coinvolta fondamentalmente. Deve essere, deve avvenire tutto in modo naturale e spontaneo. Qualunque cosa fai, però non devi dimenticare mai quali sono i tuoi obiettivi, perché poi questo è fondamentale, no? Se sai quali sono i tuoi obiettivi, riesci anche ad agire nel modo migliore. Però in questi casi l'obiettivo fondamentale non deve essere quello della conquista, ma questo vale anche per gli uomini, quando si va a caccia, diciamo, tra virgolette, l'obiettivo deve essere quello di darsi delle emozioni, perché comunque la cosa vada, meglio è. Per una donna è importante sempre tenere presente, di dare poi all'uomo l'ultima, diciamo, chance della, come possiamo dire, della conquista. Questo è molto importante, fondamentale. Quindi cerca di gestire le cose in questo modo e vedrai che ti divertirai, riuscirai a conquistare e sarà molto piacevole. Se questo video ti è piaciuto, condividerlo con i tuoi amici, iscriviti al canale e seguimi al canale Massimo Terramasco, ma iscriviti anche al mio nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Terramasco, seguimi su Instagram, su TikTok e ti ricordo che sui canali ti puoi anche abbonare. Abbonare se è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, che si avvicina, tastino iscriviti e poi seleziona l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!